A me piacciono le patate imparate a fare le patate perché le patate sono sempre buone io li faccio le patate e li mangio anche a me piacciono le patate quindi oggi è sondagio 7 settembre 2024 quindi sto facendo a me piacciono queste sono le patate queste sono le patate queste sono le patate in Decembre in Decembre in Decembre quindi sono ancora le patate queste sono le patate in Decembre in Decembre se ricordo bene il 17 di Decembre in circa 2 anni e magari stai facendo le patate perché le patate sono le patate qui ci sono le patate queste patate sono le patate in Decembre oggi è il 7 settembre ho alcune stracche 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 qui quindi è il tuo buone oggi è ancora il 7 settembre il settembre anche questi gali questi gali sono plantati in Dezember e vedete le gali sono molto bene quindi oggi è una breve ruota allo mio bosco questi sono i riempiti riempiti in Dezember quindi ho anche iniziato con i riempiti in questa parte del giardino e ancora ho deciso che ho plantato qui sono alcuni riempiti ho nato alcuni riempiti e ho trasplante qui ho nato alcuni riempiti vedete il mio giardino dove ho nato alcuni riempiti alcuni riempiti vedete alcuni riempiti alcuni riempiti vedete questo è il maese col quindi qui c'è una linea di spie vedete il mio giardino ha molto spie vedete dove ho decidere cosa ho planare in questo spie ho planare tomate quando è questo è il tempo è il non se non Grazie a tutti. Grazie a tutti.